Quanto si è bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Bentrovati dalla vostra fata zucchina, oggi mi occuperò di una ricetta per un buon risveglio ed è la volta del golden milk, un latte d'oro. Innanzitutto andiamo a utilizzare la curcuma, che sappiamo è un potente antinfiammatorio naturale. Sono andata a creare un'emulsione utilizzando appunto la polvere di curcuma insieme all'acqua calda. Allora ho messo in un pentolino la curcuma e poi piano piano sono andata ad aggiungere l'acqua sempre mescolando per non formare grumi, che poi ho messo in questo vasetto. Questo tipo di emulsione si potrà conservare in frigo, in un barattolino di vetro chiuso, per 40 giorni. Oggi ho scelto un latte di filiera piemontese, imbottigliato entro le prime 48 ore dalla mongitura. L'ho scaldato, adesso ne aggiungo ancora un pochino. Prendiamo il nostro bicchiere, ci uniamo il latte. Ed ecco che riprendo il vasetto di curcuma, ne prendo appena un quarto di cucchiaino e lo vado ad inserire nel latte, poi ci aggiungo anche un po' di miele. E così facendo vado a girare tutto, volendo potremmo anche unire dell'olio che sicuramente va ancora più a ingentilire il gusto finale. Lo giro bene in modo che tutti gli ingredienti si fondano ed ecco che se il buongiorno si vede dal mattino, questo sicuramente è un ottimo buongiorno, anzi un buongiorno d'oro. Sapore di sale, sapore di mare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.